Non sarà facile perché Busto comunque è una squadra che sta facendo molto bene quest'anno e anche adesso sono abbastanza giocando anche Europa, stanno facendo bene, quindi loro hanno giocato un po' di più, quindi noi siamo venute di Bolzano che volevamo togliere tre punti o almeno qualche punto, quindi siamo un po' giù, ma secondo me ce la possiamo fare. No, l'umore è buono, noi ancora ci crediamo che possiamo andare avanti, anche la squadra sta facendo un buon lavoro, stiamo giocando, stiamo ancora con il nostro gioco e impegnandoci tanto. Noi dobbiamo uscire in campo con tutta la grinta perché se no con una squadra che anche sono più alte, che sono più forti e hanno più altezza, noi abbiamo bisogno di essere più furbe, più cariche, mentalmente più preparate.